buongiorno e benvenuti da scandal quest'oggi siamo su bulge facciamo operation bulge con un aereo di era 1 ed è il p36g hawk era 1 diciamo che dovrei averlo quasi tutto sbloccato non ci ho giocato tantissimo comunque adesso prendiamo quota e poi dopo valutiamo assieme questa straordinaria macchina di era 1 siamo 4800 metri diciamo che su era 1 già questa quota è abbastanza rilevante nel senso vedete come girano belli bassi e adesso a parte quel puntino che li vedo a sinistra che deve ancora poppare credo che più o meno tutti i bersagli siano più bassi di me adesso lui è più o meno la mia stessa quota cerchiamo di acquisirne anche perché ho un'energia cinetica abbastanza importante erano oltre i 320 km orari adesso cerchiamo di barattare quello che è l'energia cinetica per energia potenziale poi dopo cerchiamo di vedere quali sono le sue intenzioni anche perché viene dritto da questa parte comunque v36g hawk o comunque anche tutti i p36 diciamo sostanzialmente sono dei caccia che un po vecchiotti non avevano possibilità di svilupparsi tecnicamente come però fu per tantissimi altri caccia della seconda guerra mondiale adesso voglio vedere l'intenzione di questo perché è molto vicino lui è impiccato un climb abbastanza importante adesso io vado in loop dovrei avere tutta l'energia per poterlo fare vedete che energy retention che ha addirittura quasi nel video del fockewolf a parte il fatto che eravamo chiaramente abbastanza impiccatini ecco non è che avevamo energia sufficiente per fare un loop però vedete performa a livello di energy retention addirittura adesso rifaccio l'ultimo video meglio del fockewolf 190 f8 anche perché diciamo che come struttura questo è più leggero però dovrebbe teoricamente avere una componente energetica migliore anche se effettivamente realisticamente non c'è un confronto vero e proprio col fockewolf 190 però adesso cerchiamo di metterci in coda del dell'enkel 112 che chiaramente avevo già fatto la recensione tempo fa 630 650 670 680 va in rosso quindi bisogna tenerlo un attimino su cercare di non prendere ulteriore velocità perché sennò saremo costretti a chiaramente togliere il motore e questo ci priverà dell'energia cinetica che può portarci poi successivamente a riacquisire quota adesso siamo su ore 6 io non so adesso cosa faccia lui comunque l'ingaggio è buono lui sta riacquisendo quota quindi per noi è abbastanza facile adesso vediamo se riusciamo a sparare 0.4 niente lui fa uno split test abbastanza abbastanza carino tutto sommato si è svincolato abbastanza bene però comunque noi abbiamo un vantaggio di energia questo mitragliatrice sta facendo delle manovre molto belle quindi chiude l'angolo però riesco a fargli un hit chiaramente non sognatevi di fare one shot con questo aereo anche perché comunque anche se le 12 e 7 sono mitragliatrici importanti questo fa un head on niente da fare lui mi forse mi ha graffiato un po di sulla carlinga ma io non gli ho fatto assolutamente nulla ho guardato neanche le mie hit e adesso cerchiamo di performare una mered prendo quanta più energia potenziale possibile per riuscire a sovrastare quello che è il mio bersaglio chiaramente vedete le manovre più o meno ricalcano sempre un altro head on qui faccio una hit lui è piccato io invece vado giù 380 arrivato a cabrare per riuscire ad acquisire quota vado in loop ok lui adesso ha meno energia di me chiaramente come prima il b0 è una gran macchina soprattutto vira da dio però performa un po peggio adesso vediamo se usciamo ok niente qui mi ha chiuso l'angolo coerentemente bravino questo ok fa una sorta di barrel roll però l'ha spezzato a metà quindi non è completo adesso vediamo se riusciamo a rivirargli in coda ok adesso più o meno entrambi gli aerei hanno la stessa energia adesso lui ha guadagnato una posizione a ore 6 io vado in barrel roll barrel roll chiaramente mi baratta distanza e vado in coda ok ok niente non sono riuscito a fare una hit perché lui si schianta comunque si è schiantato è peccato perché sinceramente secondo me meritavamo la kill però è chiaro che non diciamo lui ha perso il controllo probabilmente del suo aeroplano manovrando questo è anche un punto a favore nel senso non ha dato la kill però comunque abbiamo manovrato in modo tale da fargli perdere il controllo dell'aereo secondo me è aggiudicabile come vittoria sull'avversario in 1-1 adesso cerchiamo di andare a vedere che cosa succede al centro la vedo del junker 87 sovrastati da p26 f4f sbd3 cioè diciamo che sostanzialmente credo che durante questa partita la la nostra posizione sia di favore adesso vediamo la c'è un folgore bello folgore speriamo di poter avere a che fare col folgore perché mi piacerebbe assai poter duellare con contro di lui diciamo ma purtroppo penso che i wild cat siano a caccia grossa e un wild cat ha già fatto un critical sullo junker 87 però vedo sta puntando verso l'alto adesso la sua energia non è chiaramente interessante per poter fare un addon su di noi però vediamo se riusciamo a fare uno split test per riuscire a metterci in coda del machi 202 macchina dalle caratteristiche di volo straordinarie oh bla qua l'abbiamo shottato primo colpo probabilmente pilota infatti pilota pilot is unconscious e quindi abbiamo ucciso il nostro machi 202 adesso con una kill però dobbiamo cercare altri target che però non vedo comunque il curtis è è un bel aereo è un aereo che ci da l'impressione di poter essere un aereo di tutto rispetto nella era 1 infatti di soprattutto con la versione g vi renderete conto che riuscirete a ad avere un incremento di prestazioni rispetto agli altri aeroplani dovuto al fatto del 27 sono veramente molto forte e quindi se voi non vedete che un aereo sull'era 1 chiaramente in realistica intendo dire non in arcade perché diciamo con i modelli di volo semplificati è molto molto facile diciamo riuscire a gestire le situazioni se vedete che non è buono fare timing fight non state a sprecarsi del tempo lo usate come boom and zoomer e vedrete che i risultati poi sono diventano più interessanti adesso vediamo dove io ho visto che la mi pareva di aver visto qualcosa in realtà non ho visto assolutamente niente quindi sostanzialmente credo che si possa convergere sulla base avversaria per riuscire a cercare l'ultimo rimasto un p26a si è andato a schientare adesso adesso vediamo se riusciamo a trovare questo qui quindi la ci sono le basi basi che sono state poi introdotte durante la 1.37 prima non c'erano le basi sono dei punti dove si va a bombardare essenzialmente non c'è niente di esagerato da comprendere e la base distrutta riduce del 10% l'income diciamo di lions e esperienza che la squadra avversaria fa e sul nostro scouting penso stia per concludersi perché noi stiamo andando verso la base avversaria io spero mi auguro che ci sia qualcuno lì è probabile che sia un bombardiere adesso vediamo eccolo la infatti anche il 111 sarà un h3 vedo forse una delle prime versioni probabilmente di era 1 anche il 111 è noto come bombardiere di carta non ha grossissimi differenze per lo meno per lo meno su questo sul gioco adesso non vi so dire però comunque generalmente quando sparate all'enca il 111 è la cosa più facile da tirare giù del gioco credo perché basta una passata è come la pubblicità dei detersivi allora vediamo se riusciamo a guardate come come è stato facile in realtà non ma neanche vi ho detto tipo pilot unconscious tu passi sull'enca il 111 tu lo tocchi e lui poverino muore e ci siamo portati a casa diciamo anche questa kill anche se sinceramente mi sarebbe piaciuto portare a casa più la kill dell'enca il 112 che dell'enca il 111 perché bombardiere non mi frega niente di farvelo vedere era molto più bello il combattimento con l'enca il 112 però diciamo che adesso è andata così e quindi purtroppo non sono riuscito a farvi vedere altre kill però diciamo che nella sostanza avete già capito come funziona come come si riesce a pilotare questo abbiamo fatto due kill abbiamo fatto un po di hit un po di assist insomma ci siamo divertiti e quindi niente anche per questa volta è tutto pilotate il p36g hawk perché è un gran ferro guardatevi sempre ore 6 non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao